ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del nostro blog nel mondo ci sono più di 4 miliardi di persone connesse a internet e nel 2017 poco più di un miliardo e otto hanno fatto acquisti online questo numero è destinato ad aumentare nei soli primi mesi del 2018 la crescita è stata dell'8 per cento e gli analisti si aspettano una crescita a due cifre prima di fine anno se avete un e-commerce o state pensando di aprirne uno sono molte le domande che vi frulleranno nella testa ma soprattutto sono molte le cose che dovete tenere in considerazione per un e-commerce di successo ve ne elenco alcuni scelta del settore merceologico in cui si andrà a vendere analisi dei competitor scelta di un partner per la realizzazione del portale e-commerce e ne consegue la scelta tecnologica del cms da utilizzare strategie di marketing scelta di un partner per l'hosting naturalmente in questo e nei prossimi video mi focalizzerò principalmente sull'ultimo aspetto quello dell'hosting molto spesso lasciato proprio per ultimo in tutti i sensi investiamo migliaia di euro per il nostro progetto e-commerce e quando dobbiamo fare la scelta per il servizio di hosting ovvero la macchina che ci porterà al traguardo della nostra gara più importante scegliamo quella meno potente perché starete pensando vendi hosting non puoi dire che il tuo prodotto non è il più importante infatti non lo dico c'è bisogno che tutte le componenti in gioco in un progetto e-commerce siano al top il prodotto la strategia la comunicazione è ovviamente l'hosting gli argomenti che tratteremo nel corso dei prossimi video saranno velocità come migliorare la velocità di un sito e-commerce approfondirò quanto già spiegato in questo primo video sicurezza come garantire la sicurezza dei nostri dati i dati dei nostri clienti i dati del business dei nostri clienti ci avete mai pensato gestione dei picchi come garantire al nostro e-commerce di non andare down durante i momenti di maggior traffico vi è mai capitato check up come eseguire un check up completo del proprio e-commerce e quindi decidere quali azioni intraprendere se volete scoprire questi argomenti in anteprima e di persona vi invito al prestashop day noi saremo presenti in qualità di sponsor e io di speaker venite a trovarci al nostro stand vi regaleremo qualche minuto di magia magia ho detto magia assolutamente al nostro stand ci sarà un grande mago il mago di host ovviamente che vi intratterrà per qualche minuto regalandovi veramente delle esperienze che vi lasceranno a bocca aperta e ovviamente vi omaggeremo di un piccolo ma simpatico e anche utile gadget tornando alle cose serie venite a trovarci perché solo per voi in esclusiva un check up gratuito del vostro sito che evidenzierà problemi di visualizzazione velocità e indicizzazione problemi di velocità relativi al servizio di hosting in uso problemi di sicurezza insieme al check up vi invieremo una proposta per passare al profilo host più adatto a soddisfare le esigenze del vostro e-commerce e insieme il nostro piano di protezione per il black friday ma di questo ve ne parlerò più avanti siete interessati iscrivetevi al nostro canale e abilitate le notifiche spuntando la campanella a fianco a destra se invece volete maggiori informazioni inviateci un'email a info chiocciola host punto it e nell'oggetto mettete black friday grazie per avermi seguito e al prossimo video grazie per avermi seguito